Non c'è età per un gesto di altruismo. La signora Elena, il nome è di fantasia, a 93 anni ha donato gli organi. Il fegato e i due reni sono stati prelevati, giudicati idoni al trapianto e innestati con successo su due piazzienti in lista d'attesa. Lei, padovana, madre di cinque figli, nonna di nove nipoti e bisnonna di due pronipoti, ha scelto questo gesto di grande altruismo. La bisnonna padovana, nauta poco dopo la grande guerra, è venuta a mancare improvvisamente per un'emoragia celebrale dopo una vita dedicata agli altri. La donna è sempre stata in salute, i suoi organi in buono stato hanno dato la speranza ad altre due persone. Per noi è stato un gesto bellissimo di cui andiamo orgogliosi, dice il figlio della signora Elena. Mia madre è sempre stata una persona accogliente che faceva beneficenza, molto religiosa, una persona che teneva le porte aperte, c'è parso di fare la sua volontà. Anche il direttore generale dell'U6 Domenico Scibetta ha espresso il suo ringraziamento alla 93enne. Bisnonna Elena ci lascia un grandissimo testamento. Non è mai troppo tardi per fare del bene. Questo è l'insegnamento di Elena e dei suoi familiari che ci piace mettere sotto l'albero di Natale, riconoscenti per pressì che dà scacco all'anagrafe.